In questo video vi parlo del monitor KTC da ben 27 pollici e particolarmente dedicato al gaming, subito dopo la sigla. Ciao, ben ritrovati qui sul canale. Come vi ho anticipato oggi vi parlerò di un monitor da 27 pollici marchiato KTC, dalle caratteristiche interessanti che prende la direzione del gaming e vedremo perché. Ringrazio anzitutto lo store cinese Geekbuying con il quale collaboro da tempo per avermelo inviato, store molto molto affidabile, lo sapete prima di tutto lato pezzo, non avrete mai sorprese a casa e mi riferisco alla dogana, ma anche lato garanzia semplice da mettere in atto, ma soprattutto sono molto veloci nell'assistenza e nella sostituzione eventuale di prodotti. Tra l'altro Geekbuying spedisce anche da magazzini situati in Europa, quindi i tempi di consegna si accorciano notevolmente. Vi lascio come sempre qui sotto in descrizione il link per poter acquistare il prodotto, ma ve lo lascio con tanti codici sconto anche sul mio canale Telegram delle offerte. Cercate Geekbuying su Telegram oppure partite dalla descrizione del video perché troverete il link. Ricordatevi potrete fare molti molti affari e il canale comprende davvero una vasta gamma di prodotti. Detto questo andiamo più da vicino a vedere il nostro monitor, capire se può fare al caso nostro e soprattutto se vale la pena acquistarlo. E prima di partire permettetemi una breve introduzione su quello che è il brand di questo monitor KTC che ITC non è nient'altro che l'acronimo di Key to Combat. È un brand cinese che è venuto alla luce nel 1995 e ha da sempre prodotto pannelli anche di grandi dimensioni, anche OLED, anche 4K per altri brand. Quindi sostanzialmente produceva pannelli OM, ovviamente 4K e OLED nel periodo più recente, quindi prodotti finiti ma brandizzati da altri marchi. Solo nel 2021 è venuta fuori sul mercato, ecco, con prodotti marchiati da loro, belli e fatti. Quindi quando vedete KTC state sicuri che dietro c'è un'esperienza alle spalle e non è uno dei tanti brand così sul mercato. Detto questo, l'M27 T20, il display del quale parleremo oggi, non è nient'altro che un dispositivo da ben 27 pollici e dotato, pensate, di una retroilluminazione diretta. Questo significa che i LED non sono situati lungo il bordo del display, bensì dietro il display. E questo permette anche di ottenere ben 576 zone di illuminazione di local dimming attraverso la tecnologia mini LED, sulla quale mi soffermerò a breve. Tra l'altro, ecco, questa tecnologia permette il raggiungimento di una gamma colori più ampia, più precisa sicuramente, ed ha una risoluzione Quad HD 2K da 2560x1440. Una frequenza di aggiornamento, un refresh rate da 165 Hz che, unito a tempi di risposta di un millisecondo, lo rendono proprio adatto al gaming, movimenti veloci, percezione del movimento veloce nella fase di gioco. Per ciò che concerne il supporto colori e la tecnologia di illuminazione, ecco, siamo in una fascia HDR1000, ha una certificazione VESA e soprattutto con i suoi 1000 NIT certificati per ciò che concerne la parte HDR, unitamente alla compatibilità con lo standard G-Sync e FreeSync, gli permettono di andare ad eliminare tutti quanti quei fenomeni, tutti quanti quegli artefatti che rendono la giocabilità davvero penosa. Quindi va ad eliminare lo shattering, quindi la distorsione delle immagini e i frame che vanno a scatti per intenderci, ma anche il tearing, proprio tutti quanti quegli artefatti, quei quadrettoni che ogni tanto compaiono. E se pensiamo che questo è un dispositivo che si colloca in una fascia iniziale di quella media, a mio avviso, 370€ il suo costo, beh, il tutto, mini LED, vi ricordo, ecco, lo rendono un dispositivo particolarmente appetibile. Proseguiamo adesso parlando un attimo di quella che è la retroilluminazione e di quelli che sono i colori, per poi approfondire altre tematiche. Il KTC M27T20 è un monitor LCD, come vi anticipavo, ha una retroilluminazione diretta appunto, che a differenza dei normali pannelli LCD, permettono di avere una retroilluminazione a mini LED, quindi con LED piccolissimi tra i 200 e i 200 micrometri, sostanzialmente di avere una retroilluminazione molto molto più precisa e di illuminare molte più zone del display. Questo fa in modo anche che l'illuminazione sia uniforme e non si vadano a creare, per esempio, effetti come quello del blooming, voglio dire quegli aloni che si intravedono su tantissimi monitor nelle zone di maggior illuminazione. Ecco, qui dovremo andare poi a distinguere tra modalità SDR e modalità HDR, lo faremo dopo. Comunque sia, dobbiamo dire che ci sono ben 2304 LED di colore blu, che sono annidati in cluster da ben 4 mini LED appunto. E per ciò che concerne i valori ottenuti in termini di luminanza SDR, ci attestiamo intorno ai 500 nits, mentre nella modalità HDR 1000 nits, ma li superiamo anche seppur di poco. Comunque sia, abbiamo un rapporto di aspetto percepito, riferito al contrasto chiaramente, di ben un milione a uno, questo nella modalità HDR, ma poi vedremo in maniera un po' più dettagliata, nell'SDR questo rapporto scende a 3001. Tecnologia Quantum Dot, che permette alla fine, in base alle diverse modalità di colore, agli spazi di colore in maniera più precisa, nella modalità di CIP3, di coprire addirittura il 106% dello spazio colore, mentre ottimi i risultati anche nella modalità Adobe RGB con il 99% dello spazio colore coperto. Passando adesso a quello che è il design, a quella che è la connettività, ecco qui ci sono delle cose interessanti da dire, poi vedremo anche il menu opzioni. Il monitor rappresenta, se vogliamo, un design abbastanza spartano, dobbiamo dire che per tre lati del display le cornici sono super sottili, mentre i bordi della cornice e la parte anteriore sono un po' più abbondanti. Il montaggio del piedistallo è davvero semplice, rapido, è a incastro soprattutto, e c'è soltanto una vita, insomma si aggancia e si sgancia in maniera davvero super super veloce. Tra l'altro anche le regolazioni dello schermo sono immediate e sono anche abbastanza buone. Per esempio per ciò che concerne l'angolo di tilt abbiamo l'inclinazione disponibile di 5 gradi in avanti e ben 20 gradi indietro, quindi stiamo parlando della verticale, mentre 45 gradi a sinistra, 45 gradi a destra, quindi quella orizzontale e pertanto il pan. Per quanto riguarda invece la regolazione dell'altezza abbiamo uno scorrimento fino a 13 centimetri. Questo significa che il monitor può essere, attenzione, inclinato anche di 90 gradi, quindi potremo disporlo in verticale, però attenzione per poterlo fare in maniera precisa il pannello non dovrà essere dritto, ma dovremo giostrare proprio su quello che è il tilt, altrimenti non ce la faremo. Probabilmente questa è una piccola pecca, ma poco male si tratta sempre di un monitor da ben 27 pollici, più gestibili quelli da 22 pollici, 15 pollici ovviamente. Per quanto riguarda invece la connettività, che si trova tutta quanta sul lato posteriore, lato posteriore che è dotato anche di LED settabili, non dico pacchiani perché è un monitor destinato al gaming, ecco, ha le porte rivolte verso il basso, che a mio avviso sono un po' scomode, soprattutto quando dovremo inserire dei connettori trovandoci nella parte anteriore del monitor stesso. Comunque abbiamo prima di tutto, risalta prima di tutto agli occhi, lo Switch KVM, che è molto utile per poter collegare ben due computer sul monitor e utilizzare quindi stessa tastiera, stesso mouse, è dotato di due porte USB 3.0, una porta 3.0 in app stream, attenzione, due ingressi HDMI 2.0, quindi con questi ingressi HDMI si può raggiungere una risoluzione di 2560x1440, ma solo un refresh rate di 144 Hz, che comunque, comunque, continua a rimanere buono, a mio avviso, per il gaming. Poi abbiamo una DisplayPort 1.4, stessa risoluzione, ma questa volta, ecco, con lei si raggiungono finalmente i 165 Hz di refresh rate, mentre il tempo di risposta rimane comunque sia lo stesso. Abbiamo anche un connettore USB di tipo C, molto importante, perché è dotato anche di funzionalità di reverse charge, fino a 90 Watt, e tra l'altro funge anche da possibile ingresso video per collegarci dispositivi, anche dispositivi che sono dotati di 4K, verrà effettuato appunto un resync in tal senso. Come vi ho detto, la scomodità un po' di questa docking è soltanto nell'inserimento dei connettori, connettori che sono risposti vicino tra di loro, certamente i cavi non si vanno mai a toccare, comodi in tal senso, ma scomodi appunto nell'inserimento. Non sempre comodo anche l'inserimento delle cuffie, sì, perché lui è dotato anche di un jack da 3,5, proprio come uscita cuffie, uscita casse. Passiamo un attimo adesso al menu delle opzioni, che devo essere sincero è davvero ben fornito e molto variegato. Per l'attivazione del suddetto menu dovremo andare ad agire su un joystick che si trova nella parte posteriore del display, guardandolo sul lato destro joystick, che è anche un pulsante e non solo, è anche il pulsante di accensione e di spegnimento del display stesso. Lui ci permette di attivare l'OSD, appunto, e per quanto riguarda il menu display, ne abbiamo diversi, ecco, lì potremo effettuare diverse scelte, ad esempio la regolazione della luminosità, del contrasto, della nitidezza, ma anche del rapporto di aspetto, e ci permette anche di scegliere tra alcuni preset, la modalità cinema, foto, quella eco, ma anche la modalità di lettura e anche delle modalità destinate principalmente al gaming, come ad esempio la modalità FPS ed RTS, ma anche la modalità RAC. Inoltre possiamo scegliere anche lo spazio di colore che più ci aggrada in base alla circostanza di utilizzo. Nel menu color, invece, possiamo scegliere la temperatura colore, e qui possiamo farlo proprio tra ben quattro modalità. Inoltre possiamo impostare anche il gamma, che di default è su 2.2, la tonalità, la saturazione e addirittura anche il controllo della luce blu. Per quanto riguarda il menu gaming, gaming setup, beh, questo è molto interessante, perché è dedicato ovviamente all'impostazione per i giocatori, anche quelli più incalliti, e vedremo perché, ed ecco, si può impostare la regolazione del tempo di risposta, l'attivazione delle tecnologie G-Sync e FreeSync, ma anche del Moving Picture Response Time, cioè di una tecnologia che può andare a ridurre il motion blur proprio sulle diverse immagini. Abbiamo anche strumenti utili, così come vi dicevo, proprio per i giocatori più incalliti, potremo andare a mostrare un timer, un mirino ed anche un contatore degli FPS proprio a display. Nell'ultimo menu, quello Advanced, si può disattivare per esempio la modalità HDR, oppure settarla in maniera automatica, cioè si andrà ad attivare automaticamente il base al contenuto percepito. Possiamo scegliere la tipologia di local dimming, standard, high, oppure spento letteralmente. Possiamo attivare il display data channel, il command interface, e poi gestire anche altri valori come i standard VESA, alcune impostazioni riferite al KVM, se tenere abilitate o disabilitate alcune porte, eccetera. Sostanzialmente il pannello è un LCD con tecnologia VA, quindi non è un IPS, ma vi garantisco, e questa è la sua positività, che anche collocandoci in parti laterali avrete sempre un angolo di visione ottimale. Infatti questo lo rende molto vicino a un IPS, nonostante non lo sia. Perché specifico questo? Beh, per il fatto che è un monitor destinato al gaming, ci si può giocare anche in due, con una PlayStation, ad esempio, e chiaramente non ci si troverà sempre di fronte al monitor, quindi uno a sinistra, uno a destra. Ecco, la giocabilità è ottima, proprio perché l'angolo di visione è quasi simile a quello di un IPS. Ma adesso andiamo a vedere alcune misurazioni sia in SDR sia in HDR. Non voglio scendere troppo nel dettaglio, magari lo farò nella recensione un po' più completa sul mio sito web. Ecco, partiamo un attimo dalle misurazioni in SDR. Qualche valore ve l'ho dato all'inizio del video. Chiaramente nella modalità SDR, un po' su tutti quanti gli spazi di colore, i valori si abbassano. Chiaramente il rapporto di contrasto, in questo caso, scende a 3001, così come la luminanza percepita, soprattutto nelle procedure di calibrazione del monitor, ha superato di poco i 500 nits. Ecco, a mio avviso, nella parte SDR, insomma, il monitor non rende tanto, tanto bene. E soprattutto la calibrazione è possibile, ma fino a un certo punto. Non so se ricordatevi, ho portato qui sul canale proprio un video sulla calibrazione dei monitor. Una procedura che, secondo me, va fatta nella maggior parte dei casi, salvo monitor che arrivano con una calibrazione perfetta. Ad esempio i Huawei avevano una calibrazione davvero, davvero perfetta. Comunque qui poco spazio di manovra. Le cose cambiano nella modalità HDR, che a mio avviso rende molto molto di più. La luminanza supera addirittura i 1000 nits, 1050, 1060, anche qualcosina in più. Ma comunque sì, è importante dire che non scende mai, mai sotto i 700. Quindi è un monitor molto luminoso e soprattutto in tante circostanze di gioco fa la differenza. E' chiaro, ci troviamo sempre in una fascia iniziale di quella media, torno a ricordarvi. Comunque sia, la gestione degli spazi colore anche qui è ottima. Vi avevo detto che nella modalità P3 superiamo addirittura il 100% dello spazio di colore copribile, mentre nella modalità Adobe RGB siamo al 99%, che è uno spazio davvero molto molto elevato. Queste misurazioni sono effettuate un po' con i classici software per la calibrazione, ad esempio con Kalman. Andiamo adesso a dare un po' alcune conclusioni sul dispositivo. Beh, mi ha convinto. E' un monitor da 27 pollici, secondo me è la misura adatta per ottenere ottimi risultati. La risoluzione di 2K rende davvero molto bene. Vi ricordo che ho avuto in passato un LG da 32 pollici, sicuramente non era mini LED, ma era un 4K e mi sono trovato malissimo. Infatti avevo tantissimi effetti di blooming, anche la gestione del FreeSync non era ottimale, spesso c'erano diverse quadrettature. Sostanzialmente stiamo parlando di marchi differenti, ma qui a mio avviso, anche se a distanza di qualche anno, certamente rispetto a quell'altro, abbiamo davvero un risultato top. Quell'altro costava 500 euro, questo ne costa 3,70. Non sempre è il metro di giudizio, ma è anche vero che per chi vuole giocarci, chiaramente senza pretese eccessive, ma con buoni risultati, e soprattutto gestire la connettività perché magari vuole attaccarci sia la console sia il computer, può essere sicuramente il monitor che fa al caso suo. Anche perché ha un reverse charging che permette di alimentare i dispositivi in maniera passante per giunta, insomma va a diminuire dei cavi ed ottenere degli ottimi risultati. In ogni modo, se dovessimo trarre una conclusione definitiva, adatto certamente per il gaming, con le specifiche che vi ho dato, meno adatto a mio avviso proprio perché la calibrazione del pannello, non dico che è difficoltosa, ma è limitata, anche agendo all'interno dei menu stessi, non si riesce mai ad ottenere il risultato ottimale, insomma meno adatto per l'editing di fotografie, per l'editing di video. Quindi se avete un'idea di acquisto pensata per questa, a mio avviso vi conviene andare su altri prodotti che comunque sia possono essere buoni allo stesso prezzo. Detto questo amici, concludo finalmente il video, vi rimando come sempre a un prossimo, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi qui al canale per avere sempre contenuti migliori, contenuti aggiornati, ma ovviamente seguitemi anche sul mio profilo Instagram perché vi do sempre tante news e soprattutto uno scorcio sul backstage appunto di questi video. Ciao! Ciao! Ciao!